Prima eravamo convinti di essere, quantomeno avevamo forse la presunzione di essere indenni da questi fatti, oggi non abbiamo più questa convinzione, c'è la certezza che abbiamo fatti di infiltrazioni malavitose, mafiose anche nel tessuto del Veneto ed è giusto evidenziare questo. Il governatore Zai è stato l'ultimo testimone eccellente nel processo sulla presenza dei Casalesi a Eraclea, oggi pomeriggio nell'aula bunker del Tribunale a Mestre e in cui la Regione si è costituita parte civile. Zai ha anche detto di non aver mai avuto notizie prima dell'arresto di Donadio a febbraio 2019 della presenza di un'associazione mafiosa o di infiltrazioni mafiose a Eraclea. Ho fatto il mio dovere, la Regione si costituisce in questi casi come parte civile, lo abbiamo fatto anche in questo caso e sono venuto a deporre come prevede la legge, come dovrebbe fare qualsiasi cittadino. La Regione potrebbe anche, nonostante la legge, non costituirsi parte civile. La legge lo prevede e penso che sia un obbligo da parte di noi cittadini, non solo di costituirsi ma anche di denunciare nel momento in cui vediamo che qualcosa non va. Dopo questa testimonianza il dibattimento si chiude. Numerosi gli imputati che in parte hanno patteggiato, altri sono sotto giudizio per giri di appalti poco chiari, favori di varia natura e denaro sconosciuto al fisco. Le indagini avevano portato alla luce nel febbraio 2019 un sistema di malaffare diffuso e legami tra esponenti della camorra originari della campagna, imprenditori e politici di Eraclea, oltre che bancari, professionisti e componenti delle forze dell'ordine. Per circa 20 anni, come confermato dalla sentenza del rito abbreviato, il clan mafioso aveva gestito i propri affari nella zona, stringendo alleanze con la politica e l'imprenditoria locale. Il boss dell'organizzazione, ora libero, era considerato Luciano Donadio.